Lo scrivo alla prima riga, io prima di scrivere sull'unità l'ho venduto, anzi l'ho diffuso perché non si vendeva, si diffondeva, si andava dalle persone nelle case per parlare con le persone era quello che ti insegnava la politica. Non passava dalle dicole ma era vissuta principalmente sulla distribuzione dei militanti la domenica è il giorno della diffusione principale dell'unità ma anche il giorno per raccogliere rumori e problemi del vivere quotidiano. Tu avevi un grande compito che era il compito di questo paese che cambiava di essere uno che dava opportunità nuove, dava conoscenze nuove eccetera questo era poi il motore che spingeva a fare quello che si faceva, che era la militanza che era impegno gratuito. Era il febbraio del 1924 quando uscì il primo numero del quotidiano del partito comunista d'Italia un giornale fortemente voluto da Antonio Gramsci. Un secolo di storia ripercorsa adesso dal giornalista Roberto Roscani nel suo libro L'unità, una storia, tante storie, pubblicato a cento anni dalla fondazione presentato ad Arezzo nel corso dell'evento primaverile del Passioni Festival. Mi ha dato moltissimo, io gli ho dato quello che avevo dal punto di vista dello sforzo, della fatica ma sono in debito, ecco, io mi sento ancora in debito con questa vita che ci ho passato dentro. Roberto Roscani, giornalista di lungo corso all'interno del quotidiano L'unità, attraverso una serie di racconti e testimonianze, guida il lettore lungo un percorso ricco di avvenimenti, lotte e personaggi che hanno caratterizzato la storia del giornale. Immancabile il ricordo di Enrico Berlinguer. Berlinguer ha contato molto per L'unità e probabilmente il modo in cui L'unità ha raccontato la sua morte, la sua agonia quei giorni, è stato uno dei passaggi fondamentali per la trasformazione del giornale, per trasformarlo in un giornale che veniva percepito come molto ufficiale, molto, come dire, la linea. Un giornale invece che dava anche senso all'emotività delle persone. I titoli Ti vogliamo bene Enrico, i titoli Tutti, Addio, non sono titoli normali. Funzionavano perché coglievano la stessa vibrazione che c'era tra le persone e stavolta non soltanto nel popolo comunista, io credo che in tutti gli italiani ci fosse emozione per quella morte. E il saperla rendere, saperla raccontare fu una delle cose, credo, migliori che abbiamo fatto.